Ciao ragazze bentornate, questo è un video all collaborazione con il sito Born Pretty Store io ho iniziato da pochissimo la collaborazione con questo sito quindi avevo effettuato un ordine e loro mi hanno dato un codice sconto che vi lascerò giù nell'info box con il 10% di sconto sia per me che ovviamente per voi se volete, nel caso volete usufruire di questo sconto allora io ho fatto un piccolo ordine, allora vi faccio una breve premessa ho fatto questo piccolo ordine circa un mesetto fa loro mi hanno mandato i prodotti, solo che un prodotto non era arrivato, non l'ho trovato nel pacco e un altro prodotto è arrivato leggermente danneggiato allora io che ho fatto? Ho mandato subito un'email al sito, al servizio clienti io ho interagito con Cinzia che devo dire è una persona estremamente disponibile e veramente cerca di risolvere tutti i problemi in maniera abbastanza veloce e rapida insomma ho raccontato quanto accaduto e lei subito mi ha scritto di mandare una foto dell'oggetto danneggiato e di spiegare quale oggetto era mancato io ho mandato la foto, ho detto l'oggetto che non avevo trovato nel pacco e che avevo ordinato e quindi lei mi ha risposto subito, praticamente io magari scrivevo l'email e il giorno dopo lei rispondeva e mi ha risposto che avrebbero provveduto immediatamente a mandare loro l'oggetto mancante senza alcun tipo di pagamento da parte mia e mi hanno fatto scegliere il colore di un rossetto che loro mi hanno inviato gratuitamente proprio per scusarsi di quanto accaduto per l'oggetto danneggiato e per l'oggetto mancante e due giorni fa è arrivato il pacco che è stato praticamente rapidissimo con l'oggetto mancante e il rossettino che mi hanno inviato ora, fatta questa breve premessa di quanto è successo passiamo subito a farvi vedere i prodotti che io ho ordinato allora, io avevo preso questo portapennelli che è un verde Tiffany e con i boltoncini si apre e questo è il portapennelli questo è l'oggetto che è arrivato leggermente danneggiato ora ve lo faccio vedere non so se si vede, lo vedete? qui è leggermente danneggiato io gli ho mandato la fotografia perché insomma mi sembra giusto io lo pago, l'oggetto è normale che lo voglio integro e questo è stato il primo oggettino che ho acquistato comunque da questo sito trovate veramente un sacco di cosine a pochissimo prezzo anzi, mi sono dimenticata ovviamente una cosa di farvi vedere il loro bigliettino da visita ora me ne hanno mandato un altro penso che l'abbiano cambiato comunque, veramente è un sito validissimo e poi sinceramente la cortesia e il servizio clienti è veramente veramente efficiente poi io avevo ordinato questa crema mani questa crema mani sono 40 ml di prodotto ed è una crema mani alla fragola io la sto utilizzando per portarla in borsetta essendo veramente piccolissima come si può vedere e io la metto in borsetta e sinceramente sta lì e devo dire che è una buona crema mani cioè idrata non ha un'idratazione a lunghissima durata però è carina e poi ha l'odore di fragola veramente carinissima e poi un'altra chicchetta che avevo ordinato e questo era l'oggetto mancante è questo specchio da borsa a forma di biscottino dove poi si apre crollato tutto come al mio solito si apre da un lato c'è lo specchio e qui praticamente la crema sarebbe un pettinino che si attacca poi e quindi avete lo specchietto col pettino da borsa ma questa cosa era troppo carina perché è a forma di biscottino è veramente stupendo e quindi l'avevo preso per metterla in borsa ma perché effettivamente l'ho preso perché era veramente una cosina carina e simpatica e devo dire che su questo sito ci sono veramente tante cosine da poter fare dei regalini, dei pensierini per Natale per un compleanno veramente con pochissimi soldi riuscite a fare magari più pensierini anche questi gadget sono carini a una persona insomma che volete fare appunto magari invece di fare un unico regalo potete fare tanti piccoli pensierini carini a poco prezzo poi le spese di spedizione non si pagano però è anche vero che il pacco arrivando dalla Cina ci mette circa un mesetto ad arrivare e poi il prodotto che loro mi hanno inviato per appunto scusarsi dell'accaduto è questo rossetto Balm Lipstick ed è questo rosa non so se si vede bene il colore comunque ora ve lo swatch non si vedrà un niente perché c'è veramente troppa luce questo qui comunque diciamo che io sono rimasta soddisfattissima e farò anche altri acquisti perché voglio dire io questo penso di averli ho pagato intorno ai 5 euro più o meno calcolando che avete anche il 10% di sconto cioè questo l'ho pagato 99 centesimi questa mi sembra 99 centesimi anche questa sono in dollari quindi stiamo parlando di 79 centesimi di euro credo è questo vabbè gratis le spese di spedizione sono gratis e quindi diciamo che continuerò volentieri questa collaborazione con questo sito e continuerò a fare degli acquistini su questo sito bene ragazze io vi saluto vi ringrazio vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo presto al prossimo video vi ringrazio